Questa settimana, amici e nelle prossime, vi propongo qualche spunto di riflessione a partire dalla bolla di indizione del Giubileo, come ho fatto nella lettera pastorale. «Incontriamo spesso, scrive il Santo Padre, persone sfiduciate che guardano alla vita con scetticismo e pessimismo. In effetti si respira in molti casi nella società e anche nelle nostre comunità il clima di delusione e di scoraggiamento. Considerando che la speranza vera, come scrive Papa Francesco, non è un fatuo ottimismo, ma un dono di grazia nel realismo della vita, vorrei guardare oggi, solo con un accenno, a due figure bibliche che ci aiutano a riflettere e chiedono un esame di coscienza. La vedova di Saletta, primo libro dei re, che dice «ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a preparare una focaccia per me e per mio figlio, la mangeremo e poi moriremo». A questa donna, penosamente rassegnata, il profeta Elia chiede di dare il poco che le rimane. E quando la donna lo dà, la situazione si ribalta. Il pugno di farina non si esaurisce. L'altra figura è la vedova povera di cui parla il Vangelo, la quale getta nel Tempio le uniche due monetine che le sono rimaste. E Gesù la indica come modello sulla strada della fede. Scoraggiamento e delusione, amici, sono vinti dal dono fiducioso di noi stessi al Dio che mai ci abbandona e restituisce moltiplicato il dono. La speranza che non delude, scrive il Santo Padre, nasce dall'amore e si fonda sull'amore che scaturisce dal cuore di Gesù trafitto sulla croce. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.